ok ma scusate che un salto io che questi sfidi sono spinti spiglie se proteggono il cerico pc cattigiani in fondo per fare con scoparire allora ah eccole li adesso cercherò di colpirli ecco qua ok eccolo ancora di loro mi colpisce ancora che mi ha dato contro di me ecco c'è il libro di sapataccio non vedo l'ora non so non so che cazzo allora ci vediamo la prossima volta ciao